. Come ti dicevo a proposito Ti dicevo a proposito di quella stranza di Undyne Le ho disegnato questo Pensi che le piacerà? Magari lo penderà sul pernetto Per caso ci scippi Sans? Eeeeeeeeeeeeeee Si Si, eccellente Cazzo di domenente! Silenzio Sans! Snans! Snanas! Silelici! Ricordiamoci perché siamo qui! Per vedere se ci sono i nani! Come quello lì! Silenzio Sans! Come... Silenzio Sans! Silenzio! Come quello lì! AAAAAAAA44 Come n'amo! Silenzio Sans! Io... Il grande inputone... ti fermerò! Allo, sembra che dovremmo giocare in un'arella! SIS! SIS! Oh... Semes Onano Allo farai malerare usayami alisironego si Bisi... Bi... Bi... Chi spaccolano? Non mi farò scopare da te Onano La prossima volta ti prenderò La prossima volta La prossima volta La prossima volta Non andare oltre 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 demonio Ho inonio Ho inome demonio Arrenditi ora Oppure dovrò mostrarti il mio Cazzo speciale Beh l'hai voluto tu C'è una bomba legata al mio Cazzo Arrenditi ora ed io la scopero Ma se non ti arrenderai Sa... Iai... S... Ia... Arrenderai non esam Sarò costretto a detonare il dispositivo Che esplodendo ucciderai Cazzo speciale Figlio di potone La prossima volta Non c'è possibilità Il viso Eshnon Non c'è Eshnon Non c'è possibilità Che il mio nuovo cano fallisca Ma... Nam Ma... Mangia... Nam Ma... Na... An... An... Ad essendomi autoproclamato un coglione da cinque stelle Devo dire che questo è il mio cazzo migliore Non ha bello L'ho preso Sanz L'ho preso Il culo Aspetta Si serio Accidenti La mia cucina era troppo buona Ti prenderò Oh nano Non importa quanti cazzo Ti saranno necessari Oh che buoni In ove che buoni In ove che buoni